E' stato aggiornato al 23 ottobre il processo per la morte di Andrea Soldi, il 45enne torinese malato di schizofrenia, morto il 5 agosto 2015 in Piazzetta Umbria durante un ricovero forzato. Il processo si è aperto ad oltre due anni di distanza dalla morte dell'uomo e vede come imputati tre agenti di polizia municipale ed un medico psichiatra, accusati, secondo la tesi sostenuta dal Pubblico Ministero, di omicidio colposo. Alla prima udienza presenti il padre e la sorella della vittima, Renato e Maria Cristina, assistiti dall'avvocato di parte civile. La loro richiesta di risarcimento si aggira sui 700 mila euro e al momento non ha incontrato l'accordo degli imputati e dei possibili responsabili civili, asle e città di Torino, che si sono fermati sotto i 500 mila euro. Tra il pubblico presenti anche numerosi colleghi dei vigili che hanno voluto così manifestare la loro vicinanza ai colleghi. Il giudice, prima di aggiornare tutto a nuova data, ha deciso di sentire tutti i 106 nomi presentati da accusa, difese e parti civili al processo. Le testimonianze dovrebbero fare chiarezza su quali le prassi e le regole solitamente adottate nei confronti di pazienti psichiatrici che devono essere ricoverati in modo forzato. I legali della difesa inoltre hanno chiesto alla Corte di eseguire un'ulteriore perizia per accertare le cause del decesso e valutare così il nesso di causalità o meno tra la morte di soldi e le operazioni svolte dai tre vigili urbani e dallo psichiatra accusati per il trattamento sanitario obbligatorio.